Mi sono occupata di moderare una sessione molto interessante in cui sono stati riportati dei casi di studio sia su terremoti che su marimoti in Italia, dall'Italia settentrionale, Trentino Alto Adige fino alla Calabria e alla Sicilia con record sia storici sia di studio, delle casistiche di grande interesse e che hanno anche riguardato gli ultimi terremoti che hanno colpito la nostra penisola, quale quello di Amatrice e quello dell'Aquila e quelli storici, quale un fine del Settecento nella Calabria e poi il ben noto terremoto del 1908. È stata una sessione estremamente di interesse in cui molti ricercatori scienziati hanno portato la loro testimonianza e che ora poi si riversa negli studi e che darà ulteriore fermento alle azioni che si intraprendono per ridurre il rischio sismico in Italia che deve certamente guardare alla vulnerabilità dell'edificato ma non deve assolutamente dimenticare lo sviluppo della scienza e le testimonianze storiche che continuamente ci ricordano ciò che sulla nostra penisola può accadere. Il nostro contributo scientifico ha riguardato alcune evidenze geologiche ed archeologiche in relazione alla sismicità storica di un settore alpino e in particolare il settore riguardante il Trentino Alto Adige. In particolare abbiamo fatto una presentazione, abbiamo discusso e presentato tutto ciò che riguarda una serie di elementi geologici, in particolare alcune grandi frane datate con delle tecniche moderne che sono avvenute in un periodo di tempo in un'area molto ristretta in corrispondenza di quello che è chiamato il terremoto storico della media val d'Adige che è avvenuto nel 1046 d.C. Questo è un evento importante perché, benché sia relativamente poco vincolato da dati storici, è un evento importante, dicevo, per la caratterizzazione del potenziale sismico di questa regione. Questo è importante per vari motivi, ma anzitutto per una valutazione di quelli che sono gli scenari sismici di questa regione, che sono fondamentali, ad esempio, a scopi di protezione civile e territoriale. Ho presentato una ricostruzione storica di 110 anni di studi del terremoto dello stretto di Messina del 1908. A oggi e ancora da quando sappiamo registrare i terremoti, è il terremoto con la magnitudo maggiore del catalogo italiano. Questo significa che è un disastro di dimensioni notevoli. Nell'arco di 110 anni nessun altro terremoto ha fatto lo stesso numero di vittime e la stessa quantità di danni. Quindi parlarne ancora è fondamentale per comprendere quanto veramente sia fragile questo territorio. Il terremoto di Messina ha causato circa 80.000 vittime. Questa è una stima abbastanza affidabile. Che significa che nell'arco dei terremoti che hanno colpito l'intero pianeta, nell'arco di tutta la storia dell'umanità, si classifica tra i primi 15 sicuramente, senza avere una magnitudo che comparirebbe nei primi migliaia di terremoti che hanno colpito il pianeta. Il che vuol dire che abbiamo un'estrema vulnerabilità dell'abitato. L'avevamo sicuramente 110 anni fa. Ce l'abbiamo ancora oggi? Beh, secondo me abbastanza. Perché l'unico terremoto che abbia colpito una città a partire da 1908 è stato quello dell'Aquila. Un terremoto di magnitudo 6, 6.2, eppure ha fatto 300 vittime. Un terremoto che in un altro paese non avrebbe colpito tanto. Noi abbiamo comunque una capacità scientifica, una capacità tecnologica, a livello se non superiore in alcuni casi agli altri paesi, i sismici come gli Stati Uniti, Giappone. Ma tuttavia abbiamo ancora un'estrema vulnerabilità. Non siamo in grado di mettere in pratica le nostre capacità tecnologiche. I dati prodotti all'epoca del terremoto sono stati rianalizzati nel corso di 110 anni. Via via che le conoscenze scientifiche e la tecnologia hanno permesso nuovi studi. Oggi noi sappiamo abbastanza bene di che cosa si è trattato. È stato un terremoto che ha rotto una faglia nella crosta di circa 40 chilometri con una dislocazione massima di 4 metri. Il che vuol dire che niente del genere abbiamo ancora visto in Italia. Purtroppo però siamo sicuri che lo rivedremo. Perché la zona dello stretto di Messina è una zona dinamica, è una zona che continua ad espandersi. Il che significa che sta accumulando deformazione che prima o poi nell'arco di qualche secolo sarà rilasciata senz'altro. Per cui dobbiamo essere pronti per il prossimo evento sismico che sicuramente colpirà quella zona che compare nella carta di pericolosità come una delle zone a più elevata pericolosità. Il mio contributo non tanto scientifico direi quanto piuttosto pubblicitario è stato quello di cercare di stabilire una giusta correlazione tra la realtà del rischio e la sensazione che ha l'opinione pubblica. Perché ho fatto vedere per esempio la rappresentazione dei danni verificati nel 1783 in Calabria, per cui lì è possibile vedere che si sono verificati in Calabria nel giro di un mese e mezzo cinque scosse, tutte di decimo e undicesimo grado praticamente, che se si verificassero oggi non oso immaginare che cosa potrebbero procurare. Per cui le scosse che noi stiamo vedendo da qualche anno a questa parte certamente meritano tutta la nostra comprensione però quello che il mio è stato in questo senso un grido d'allarme attenzione che questo non è tutto quello che può succedere può succedere anche di peggio. Un altro problema al quale io sono molto sensibile come professore universitario a riposo dopo 45 anni è praticamente la carenza di risorse anche in termini di personale destinata alle scienze dei terremoti, sia dal punto di vista geologico sia dal punto di vista geofisico e sismologico in generale. Le evidenze geologiche rappresentano un utile elemento per stimolare la vulnerabilità costiera in Italia meridionale perché riconoscendo queste evidenze sul terreno è possibile ricostruire tutti i parametri idrodinamici e morfografici relativi alla fascia costiera, tutti i parametri idrodinamici relativi all'onda impantata del tsunami che impatta sulla fascia costiera determinando una superficie di inondazione. Questa superficie di inondazione è essenziale per riuscire a determinare la vulnerabilità della fascia costiera. Io collaboro con uno spin-off dell'Università di Bari Environmental Survey e in questo studio condotto c'è stata anche la collaborazione dell'Università del Salento e del CONISMA. In pratica questi gruppi di ricerca operano tutti in ambiente costiero marino e il maggior contributo che siamo riusciti a tirar fuori tutti insieme è appunto valutare l'inondazione correlata agli tsunami inondazione correlata comunque alle evidenze geologiche che riusciamo a trovare sul terreno, sulla fascia costiera. Ho parlato essenzialmente della sismicità dell'isola Dischia sappiamo che il 21 agosto del 2017 c'è stato un terremoto distruttivo che però ha distrutto molti edifici e ha causato due morti pur essendo stato in magnitudo molto bassa semplicemente perché la sua profondità era estremamente superficiale. Prendendo spunto da questo importante terremoto ho evidenziato che l'isola Dischia ha una sismicità molto particolare che può essere assente anche per secoli ma poi inizia delle sequenze, quando ci sono dei terremoti un po' più forti delle sequenze sismiche che possono ripetersi a brevissima distanza anche di pochi anni. L'esempio che ho fatto principale è quello del terremoto del 1883 che distrusse completamente Casa Micciola causando circa 2.600 morti all'epoca e fu preceduto soli due anni prima da un terremoto nel 1881 che fece comunque circa 250 vittime. Da questa situazione peculiare ma molto importante dell'isola che li ha distingue dalla sismicità appenninica o dalla sismicità delle Alpi ho preso spunto per rimarcare la necessità assoluta non solo della ricostruzione fatta bene nell'isola ma della messa in sicurezza anche di un'area molto più vasta di quella interessata dal terremoto recente perché se avvenisse in tempi brevi un terremoto come questo o anche molto più forte tipo quello del 1883 ci potrebbero essere di nuovo tra molte centinaia a migliaia di vittime quindi è molto importante a Ischia parlare di messa in sicurezza e non solo di ricostruzione o di riparazione degli edifici danneggiati da un terremoto che comunque è molto più piccolo di quello massimo possibile e questa è una situazione che in qualche modo riassume la situazione italiana ma la esemplifica cioè qui molto più che in altre zone è importantissimo iniziare la messa in sicurezza da un punto di vista sismico del territorio l'impatto economico è molto piccolo perché ripeto siccome i terremoti sono molto superficiali l'area potenzialmente a rischio è molto molto limitata però può essere un esempio importante per iniziare finalmente il lavoro di messa in sicurezza del territorio su scala nazionale Io sono un geologo e sono venuto qui a parlare dei terremoti della sequenza sismica che si è registrata nell'Italia centrale nei paesi soprattutto di Amatrice, Norcia e Visso tra il 2016 e il 2017 Quello che ho cercato di dire è che questi terremoti sono caratteristici dello stile tettonico di questa regione che è caratterizzata appunto da faglie dirette quindi faglie di natura estensionale che accomodano l'estensione crostale della penisola italiana tra il Tirreno e l'Adriatico e hanno una direzione nord-ovest-sud-sud-est Queste faglie vengono studiate dai geologi come causa principale dei terremoti della regione Né in questo studio i geologi fronteggiano principalmente tre problemi Il primo problema è un problema di tempo i terremoti avvengono su scale temporali brevi mentre le faglie rimangono attive per centinaia di migliaia o milioni di anni quindi bisogna integrare varie tecniche che comprendono le competenze del sismologo quelle del geodeta quelle del geologo appunto che va sulle scale temporali più lunghe Un altro serio problema è che le faglie responsabili dei terremoti che noi chiamiamo sismogeniche affiorano in superficie mentre il terremoto si genera ad alcuni chilometri di profondità Quindi bisogna colmare in qualche modo la distanza che c'è fra la zona di sorgente del terremoto e il suo affioramento in superficie Per fare questo noi preferibilmente usiamo dati geofisici e in particolare noi del gruppo di lavoro di Perugia utilizziamo la sismica riflessione che è una tecnica un tipo di dato che è caratteristico dell'industria petrolifera questo perché perché i target dell'industria petrolifera si trovano a profondità comparabili di alcuni chilometri all'interno della crosta terrestre comparabili con quelle appunto di nucleazione dei terremoti e poi c'è il terzo problema che noi fronteggiamo che è forse il più il più drammatico forse però anche il più facile da risolvere che è il problema delle risorse oggi per questo tipo di ricerche le risorse sono modestissime un po' perché non sono direttamente finalizzate a risolvere il problema della pericolosità dei terremoti sono finalizzate a capire perché avviene il terremoto ma naturalmente senza capire le cause profonde è difficile poi dare risposte a problemi più applicativi la seconda ragione è che quelle poche risorse che si investono sullo studio dei terremoti vanno preferenzialmente agli enti di ricerca e alle università arriva pochissimo questo è un problema perché le università sono l'unica agenzia che addestra i nuovi geologi nuovi ingegneri e quindi se non ci sono più gruppi di ricerca che lavorano sui terremoti nelle università sarà sempre più difficile formare tecnici qualificati che abbiano piena coscienza di questi fenomeni e questo credo che non sia un problema di categoria di difesa dei geologi che lavorano nelle università ma sia un problema per questo paese per il suo futuro il terremoto si è attivato per condurre dei rilievi in tutta l'area epicentrale e soprattutto abbiamo concentrato essendo dei geomorfologi degli sforzi nel riconoscimento monitoraggio e censimento essenzialmente dei fenomeni gravitativi quindi le frane e degli effetti che il terremoto ha prodotto sulle sorgenti perché noi studiamo anche le sorgenti sfruttate per esempio a scopo acquedottistico abbiamo delle sorgenti monitorate e quindi come è successo in altri terremoti la nostra preoccupazione era di verificare se il terremoto avesse qualche effetto sulle sorgenti quello che abbiamo visto a proposito delle frane è che ovviamente crolli ce ne sono stati numerosissimi tutti questi crolli hanno interessato le sedi stradali e quindi grossi danni legati proprio all'interruzione della rete viaria però ci sono anche delle frane che abbiamo visto si stanno evolvendo tuttora e altre che probabilmente si evolveranno in futuro quindi c'è bisogno di un grosso monitoraggio quindi grossa attenzione a questi fenomeni per quanto riguarda le sorgenti abbiamo visto che tutte le sorgenti o quasi tutte hanno risentito gli effetti del terremoto alcune in maniera temporanea quindi hanno mostrato magari inizialmente degli incrementi di portate poi per quello che stiamo vedendo adesso stanno ritornando a regimi pre-terremoto altri invece hanno subito modificazioni permanenti alcune addirittura hanno incrementato la portata e ancora adesso a due anni di distanza mostrano questi effetti altre invece hanno avuto l'effetto opposto quindi alcune sorgenti si sono prosciugate e altre hanno dimezzato la portata quindi con grossa preoccupazione da parte dei gestori per la difficoltà appunto di riperire nuove risorse nel breve termine Il contributo che abbiamo voluto portare diciamo a questo volume è un'esperienza che stiamo conducendo da circa un anno e mezzo sulla città di Catania diciamo che è una delle prime realizzazioni in Italia di rete accelerometrica urbana e quest'idea è nata proprio dal fatto che Catania è una delle città più elevato rischio sismico d'Italia ma tutta la Sicilia orientale rientra nella fascia più elevato rischio sismico perché è ben noto come storicamente terremoti i terremoti di maggiore energie si sono verificati in questa parte d'Italia quale il terremoto del 1693 anzi i terremoti perché furono due nel 1693 uno in magnitudo più bassa che operò una distruzione abbastanza bassa e poi uno successivo alcuni giorni dopo che distrusse completamente la città di Catania come il terremoto del 1669 ma anche il terremoto del 1908 più recentemente causò circa 80.000 vittime quindi l'idea di andare a monitorare un centro storico che ha delle caratteristiche costruttive che in qualche misura bisogna anche salvaguardare perché è importante è un patrimonio culturale artistico importante per tutta l'Italia come tutte le parti storiche degli abitati italiani è di notevole rilevanza questo servirà a dare informazione su quelle che sono gli scuotimenti al suolo nel caso di un terremoto indirizzare eventualmente diciamo in fase di emergenza la protezione civile nelle zone che hanno subito la maggior accelerazione ma permette anche di fare studi di microzonazione o un sistema di allerta precoce che potrebbe portare a una mitigazione degli effetti del terremoto noi crediamo che sia proprio nel doposisma che si possono intravedere le ragioni della necessità di una prevenzione del rischio sismico in questo paese e da questo presupposto dalla necessità di voler accompagnare i territori e le comunità colpite dai terremoti in questo paese che è nato lo stato delle cose è un progetto di fotografia sociale e documentaria per raccontare testimoniare e documentare le sorti dei territori e delle comunità che sono state colpite dai terremoti negli ultimi 50 anni in questo paese penso all'Aquila penso ai 140 comuni del terremoto cosiddetto del centro Italia del 2016 2017 ma anche all'Irpinia e alla Basilicata devastate dal sisma del 23 novembre 1980 al Molise del terremoto del 31 ottobre 2002 e così al Belice del 1968 episodi molti dei quali purtroppo scivolati nell'oblio che ci dimostrano in maniera tangibile come il problema della vulnerabilità al rischio sismico di questo paese sia enorme ampiamente sottovalutato e come anche la parola ricostruzione non sia stata completamente e adeguatamente declinata faccio un esempio a Calitri uno dei paesi colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980 sono passati 38 anni da quel terremoto il presidio ospedaliero di questo piccolo paese è ancora in una struttura prefabbricata ormai fatiscente e quindi da una necessità e da una tensione di reietica che è nato questo progetto che attraverso la fotografia e non solo vuole raccontare il doposisma in Italia ne è venuta fuori quella straordinariamente ampia campagna fotografica sono cento i fotografi ad oggi che hanno offerto il loro contributo allo stato delle cose altri se ne aggiungeranno e non solo